È il segno di un partito che cresce, che sa essere aperto, inclusivo, anche nel momento in cui le percentuali potrebbero indurci a limitarci a quello che già esiste dentro al partito. È un partito fatto di regole, è un partito che non soltanto oggi guida il Paese, ma che si candida a rinnovare la guida della regione Abruzzo. Lo dobbiamo fare con tutte le persone che hanno a cuore le nostre città e la nostra regione.